libera come il vento una storia d'amore di avventura e ribellione che inizia in irlanda e finisce con la nascita di una nuova nazione indipendente l'australia libera come il vento uno sceneggiato che antenna nord e orgogliosa di presentare in 13 puntate da domani alle 22 10 non perdete domani questo fantastico appuntamento con lo sceneggiato libera come il vento